Sì, diciamo sulla quarantena e su queste norme di base pensavamo che per tutti fossero anche abbastanza chiare. Io sono in quarantena e non esco di casa ovviamente. Però la quarantena in famiglia con case piccole... Dovessi accompagnare qualche d'uno... Con case piccole, con un solo bagno... Certo, certo. Cioè voglio dire, ci sono delle realtà complesse, molto complesse. Si dovevano formare questi gruppi, queste UCLA, questi gruppi che potevano aiutare i medici andando a casa. Non sono state formate. Soltanto il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno raggiunto l'obiettivo che il governo aveva dato alle regioni a marzo. Quello per esempio, a mio parere, è una carenza grave. Hai ragione, hai ragione. E questa è la carenza più grave.